Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Nel caso di Yara Gambirasio permangono numerosi dubbi ragionevoli sulla colpevolezza di Massimo Bossetti. La principale prova a suo carico è il DNA, che secondo l'accusa lo incriminerebbe. Gli inquirenti sono convinti che il DNA trovato sugli indumenti della vittima appartenga a Bossetti. Tuttavia, la difesa non ha mai avuto accesso al campione grezzo per poterlo analizzare autonomamente. Inoltre, sul corpo di Yara sono stati rinvenuti altri 11 campioni di DNA, nessuno dei quali appartenente né a Bossetti né alla vittima. Questi campioni, tra cui tracce di sangue e altro, non sono mai stati esaminati dalla procura, fatta eccezione per uno, che risultò appartenere all'insegnante di ginnastica. Un dettaglio significativo riguarda il fatto che Yara non è stata ripresa dalle telecamere mentre usciva dalla palestra, sebbene esista un video del suo ingresso. E se non fosse mai uscita viva dalla palestra? Inoltre, Yara è stata rivestita prima di essere abbandonata, un comportamento insolito per un assassino intenzionato ad abusare di lei. Questo potrebbe suggerire che si sia spogliata volontariamente, magari nello spogliatoio della palestra. Questi interrogativi sollevano molte riflessioni sulle lacune di questo caso. Cosa ne pensate? Yara è davvero uscita viva dalla palestra o non è mai successo? Lasciate il vostro parere nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore!